Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui in questo nuovo video in cui parlo di GDR Piacciotto Avventure Blere Oggi porto un GDR di qualche anno fa, il gioco di ruolo dell'anno del 2016, l'alba di Cthulhu Questo GDR è conosciuto in realtà, è un prodotto di tutti da italiano, la Serpertarium E io l'ho sempre deputato un'idea geniale e per questo ne voglio parlare Ho già fatto un video nel 2016, proprio di questo, direttore nel 2015 di questo GDR Ne ho fatto solo uno, con cui introducevo il manuale e un pochino il suo funzionamento Rivedendolo adesso, perché io già chi mi segue lo sa, ripropongo i vari GDR negli anni Quindi io stesso li rileggo e poi li riscopro Perché non tutto rimane, ma rileggendoli più volte nel tempo Si ritrovano certe cose o ti ritorno direttamente in mente Meritavo un altro video, specialmente in questi tempi moderni Dal 2016 al 2023, 7 anni, in realtà è uscito nel 2015 Perché dopo c'è diventato il gioco di ruolo dell'anno Quindi 8 anni è un bel lacco temporale Visto che ormai il manuale non è più in stampa E che è un piccola perla in quel mondo che è, diciamo, tutti GDR su Cthulhu E io lo reputo forse uno dei migliori prodotti su Cthulhu Proprio perché non è il classico GDR su questo mondo di Lovecraft Vi spiegherò qui alcune cose di questo manuale E di come... sono decenni Sono decenni, sempre detto Ho fatto Sine Requiem, ho fatto Anime Sangue, ho fatto DGDR Incredibile quello di Serpentarium Quindi non poteva non essere un grande GDR Molti, forse tutti conoscono HP Lovecraft, ok? Il padre di questa cosmologia Questo mondo lovecraftiano Di questi grandi esseri Io ho letto tutta la sua biografia Io da giovane al grande appassionato E infatti ho giocato parecchio all'Octurhu classico, diciamo Dopo un anno addirittura alcuni dei suoi racconti Perché scoperto che è sì famoso ma non così Ci sono anni passati come lo è addirittura adesso Perché viene riscoperto tramite tante opere Che prendono spunto Io da tale grande appassionato Quando l'essi l'alba di Cthulhu ci rimasi Cos'è quest'alba di Cthulhu? Cioè l'idea geniale è trasformare il concetto che proponeva Lovecraft Cioè l'horror, la follia, il concetto che l'uomo è condannato Che più scopri peggio è Perché sei solo una briciola nell'universo Non sei per niente il padrone di nulla La faccio breve E ho creato questo Praticamente il post risveglio di Cthulhu Quindi i grandi esseri prendono il controllo del mondo Sono state delle guerre Il mondo diventa un posto tra virgolette peggiore Ok? Perché di quattro virgolette Ed è qui la natura di questo video L'alba di Cthulhu è una grandissima critica In realtà A la società umana Perché non solo l'essere umano è sopravvissuto Ok? È sopravvissuto, non è stato divorato Ma il sistema che c'è in questa città Dove puoi svolgere le avventure Puoi fare anche in una città Dove è craftiano ovviamente Prendono a piene mani Gli antichi sistemi Tipo in America anni 30 Sistema legale, politico Prendono tutto E questa genialata Cioè tu ti trovi in un mondo che Utilizza, c'è la magia Ci sono i mostri Ci sono tutti questi elementi sopranaturali Difficili da comprendere Ma tu comprendi perfettamente Perché in questo manuale C'è la tabella con i mesi Scusate, con i giorni del mese Dove tu ogni venerdì Devi pagare affitto Devi pagare bollette Cioè è molto satirico È proprio Non si prende sul sale Non c'è più l'horror È un gioco grottesco Perché ci sono molti elementi grotteschi Che ha le tinte noir comiche E questo è il bello Il divertente E tu giochi La gente Di un'agenzia Che fa Ovviamente Tipo investigativa E va dei lavori In un mondo Ormai Tra virgolette Folle Che folle non è Perché il suo funzionamento È semplicissimo È sempre quello Se arrivi alla fine del mese Sopravvivi A tutti gli effetti Perché se arrivi alla fine del mese E veni divorato Dove I manicomi Ci sono ancora Solo che invece di essere i pazzi Ci sono i sani Dove pochi sono quelli Che non hanno accettato la realtà È un gioco Che attualmente Non può più neanche essere Molto proposto C'è tutto questo Praticamente corretto Si riprendono i temi Dell'America Anni 30 Quindi capite Che c'erano temi Che Non si può parlare C'è razzismo C'è tanta Tanta roba Che non si può più Riproporre Però È un GDR È uno strumento È qualcosa Come ho detto È geniale È geniale Se Vi capita di trovarlo Vi capita Di qualcuno Che l'ha provato Questo GDR Perché assolutamente Vi ammazza Dalle risate Ma proprio C'è un passaggio Che a me Mi ha molto colpito Perché anche io Uso questo tema Una frase Che dice Vivere la Relate È come Avere a che fare Con un clown Con un mano Con un coltello Magari ti ammazzi Dalle risate Ma poi muori Per darmi C'è C'è È geniale È geniale Non posso Smettermi In un video Di 10 minuti E un quarto L'ora Tutte le citazioni Qui c'è un amore Per Locraft Incredibile Io ho accolto Tutte le citazioni Ci ho messo tutto E forse anche di più Però rendendolo Verosimile Nella società Moderna C'è Funziona Nella sua Pazia Nella sua Sazzo Paralighe Funziona Funziona Ogni creatura Ha preso il ruolo In questo Considerate che Faccio un esempio I politici Le caltecari Che sono La città Sono ovviamente I cultisti Che non si può più usare Il termine cultista Per carità Perché adesso Loro sono I buoni Sono i sacerdoti Del grande Cthulio Dove Quello più vicino a Cthulio È il gran sacerdote Quindi non solo Hanno potere politico Ma proprio Potere cancini incantesimi Fanno rituali Le carceri Non ci sono Perché le carceri Sono un posto Mi rimesso in attesa Per essere Utilizzato Cioè Nei sacrifici Per tutte le grandi Di grandi Antiche È un sistema Che funziona Perfettamente Tutti gli incontri Gente Che sono tutte Le varie Spiegazioni Come mai Sono tutte Le varie Culture Tutti mischiato Un melting pot Incredibile Ma proprio Universale Adesso Un melting pot Non solo Di umani Nelle loro culture Anche Di altre Creature Mostruose E tutti I vari edifici Proprio perché Col concetto Dei portali Del risveglio Del fatto Che il tempo E lo spazio È Tra virgolette Distorto Quindi L'elettrice È tutto Si crea Questa situazione Proprio come In America Anni 30 Che c'erano Che c'erano Le bande Di cinesi Bande Di italiani E lì Ci sono Le bande Di dagoniani Bande Di ghoul Oltre Tutte Varie cose È Qualcosa Che Sembra Difficile Da comprendere Diciamo Lì Vi conoscete Queste cose No No Perché Io questo Faccio Legge a qualcuno Che non sa Niente Di Lovecraft Ti dice Ma Questa è Classica vita Di anni 30 C'è capito Qualche spunto Da qualche racconto Magari Mafioso Che andava Tanto C'è E questa Ed è Geniale Prendere Un medium E metterlo Insieme A un altro Quindi Racconto D'orodo Folle Così Difficile Impescrutabile E Pisante Perché Gli racconti Lovecraft Sono pesanti A già notte C'è un confusione C'è un senso Di Angoscia E metterli Qui Metterli Nel nostro Contesto Non vanno A Diciamo Cozzare Si completano Qualcuno Può sembrare Un po' Una forzatura Può Pensare Questi Hanno preso Una cosa Hanno messo Insieme Un'altra Secondo me Sono andate A Pure Semplice Logica Perché Sempre il concetto Che in Ctudo Tu giochi La gente Per fermare I cultisti Ok Questo è GDR Perché il generale Ctudo È lontano Nel Quote Lovecraft Ok Perché Nel Quote Lovecraft Tu non Puoi Fermare Grandi Esseri Non puoi Fare niente Nel GDR Tu ovviamente Fai la gente Fermi rituali Fermi cultisti E su E su Stabati E su Stabati C'è Qui Ho messo Il trafiletto Invece Alla statua All'officiante Ignoto Cioè Tutti quegli Ufficianti Che sono Sacrificati Per far tornare Il grande Turo Diventati Eroli Ci sono Rinverti Tutte le Parti Cioè Loro Sono andati Con la Logica Come se Una nuova Forma di Governo Prendesse Il Controllo Del Mondo E Di Scrivere Completamente La Storia E tutti Ovviamente Sono d'accordo Perché Le persone Normali Che riescono A arrivare Le Le O che Sono Arrese Le Al Città Non Fanno Quella Vita Horror Mostuosa Che si Aspettavano Fanno La Vita E Forse Diretta Da qualcuno Che è Migliorato È Migliorato Perché Nonostante Mancanza Di Lavoro Recessione Come Sempre I Ricchi Stan Bene I Poveri Stan Peggio Lì Si È Data Un'altra Volta Una Possibilità A tutti Di Ricominciare Sono Nati Nuovi Lavori Tipo Rianimatore Che è Proprio Il Lavoro Che c'è Grazie A I Fluidi Particolari Le Tiedi Una Tabella E Poi Vieni fuori Che Diventi Mostro Impazzito Una Pozza Di Liquame Perché Il Rituale La Pratica Fallita Usa Tu E Addirittura In base a Quanto Paghi C'è Il Liquido Migliore Il Peggiore Quindi C'è Più Percentuali Di Successo De Fallimento C'è È Geniale Ragazzi È Geniale Prendere Una Cosa Grottesca Ok Cioè Ma E Fa Ridere Fa Ridere Perché Praticamente È L'uso Di Magari Un Ospedale Di Trapie Mediche Una volta Che Gli ospedali È A Pagamento Si Pagagli Più Ti Pagano Meglio Questo È Storia Anche Tutto In Alcune Parti È Così E Non Ci Piove Non Ci Piove C'è Persone Che Stanno A Contatto Con Mostri Ormai Ne Vite Tutti Giorni La Follia È Stato Tolto Completamente Perché Ormai Come Detti Sani Sono Di Manicò O In Attesa Di I Pazzi Tra Virgoletta Ne Sono Quelli Che Hanno Accettato La realtà De Cosi E Quindi Sta Vicino Andagoneta Quindi Questo Uomo Pesce Con Proviamo A fare La Vita Umana C'è Capito Tanto Sono Di Qui Devo Fare Le Cose E Mettono Gli Abiti Come Una Persona Per Sembra Meno Grotteschi In realtà Sono Sempre I Mostri Con Le Che Senza Senza Testa C'è E Comunque Convivono O Meglio Apertamente Convivono Qualche Qualcuno Dice Ah Mi Serve Per il suo cervello Vuole lo stacco Perché Non hanno I sentimenti Umani Ma Sono Anche Loro Parti Di Un Sistema E Subiscono Le Leggi Che Cthulhu Stesso E I suoi Rappresentanti Hanno Debitamente Di fatto Molto Simile Le Leggi Umane Classiche Che C'erano La figura De Cthulhu Concludo Il video Perché E lui È Il Centro Dell'Ect Come Nel Disegno Principale Questo Questo È Importante Fa Fermo Immobile Non Fa Niente C'è La tabellina Forse Che Può Fa Qualcosina È Qualcosa Di Intoccabile Inamovibile E L'elemento Tra virgolette Anche Di Disturbo Perché Lui Comunque Sia È Lì Tutti Lo Vedono Tutti Accettano C'è Il Margin Di Dubbio Non È Vera Sta Cosa Ok Lui Lì I Suoi Grandi Zacerdoti Lo Sentono Sentono Il Volere Almeno Così Dicono Politica Perché Lui Adesso È Il Presidente Ma Solo Loro Sanno Quello Che Pensa C'è Tanto Tanto Gioco Sopra Fare Gli Agenti In Questa Città È Incredibile Perché Ovviamente L'obiettivo L'agente È Fatturare Guadagna Qualcosa Per Tirare Avanti Perché Le Bollette Incomono Quindi Puoi Fare Una Vita Un Po La Cyberpunk Sempre Sulla Cresta In Alto Perché Ovviamente Solvi In Grande Caso A Le C'è Tutto C'è Divertimenti C'è La Vita C'è Lusso Oppure Sparire Cioè Tu La Fan Caso Te Va Male Incontri Uno Con Armaliena Che Ti Scuaglia Vivo Oppure Peggio Ancora La Fan Caso Pestipiedi A Qualcuno Che Non Vi Pestà Viene E La Polizia Quindi Devi Pagare Di Danni E Non Hai La Liquidità Con Te E Dopo Vi Ha Debito Dopo Voi Ne Interessi C'è Tanti Tanti Temi La Forse La Parte Più Interessante E Esplorare Come Le Quattro Razze Giocabili Cioè L'umano Il Ghoul Classico Ghoul De Tutti Scenari Fantasy Quindi Una L'agonita Come Ho Detto Questo Nuovo Pesce E Il Migo L'alieno Sono Le Classi Giocabili C'è Dove Giocare Sta Roba E Interlacciono Tutte Le Altre E Ovviamente C'è Il Tema Del Razzismo Sono Razzisti Tra Loro Questa Cosa Che Era Molto Negli Anni Passati Sperando Che Youtube Io Mi Dissocio Ovviamente Da Tutti Questi Temi Questa Storia Una Volta C'era Tutta Questa Gran Divisione Loro Ha Ripreso Solamente Ciò Che L'essere Umano Da Quindi Io Mi Dissocio Quest'idee È Incredibile Come Riescano A Creare Un Gioco Che Comunque Sia Per Settimana Ti Pagano E Tu Paghi Invece Che A fine Mese È Molto Più Breve Questa È La Ragione Di Gioco Ovviamente E Soprattutto Diventare Qualcuno Diventare Qualcuno C'è Questo Tema Forte Che C'è Anche In America Tu Puoi Diventare Qualcuno Perché Ha Solo Dieci Anni La Città Quindi È Relativamente Giovane La Nuova Città Intendo Quella Riemerzare Il Gioco E Si Può Fare Si Può Fare In Città Qualciasi Cosa Non Posso Entrare In Dettagli Perché Sono Tutti Temi Dall'horror Folle Mostruosa Quelle Cose Che Youtube Nel Mondo Reale Non Possono Lì Contrabbandi Cose Vari Però Il Gioco Ti Dà Tantissime Opportunità Vemente Tante Tante Un Gioco Divertente Ironico Con L'horror Non Viene Perché Tu Veramente Con Tutto Quello Che Ti Viene Dato Quello Che Tu Già Conosci C'è I Personaggi Sono Proprio Anestetizzati Da Quelle Situazioni Ormai È Comune Comune E Gli Antagonisti Di Solito Non Sono Oltre Che Altri Agenti O Qualcuno La Malavita C'è Qualcuno Che S'approfitta La L'Ecturro Sono Quelli Che Le Resistenze Che Comunque Nella Situazione Disperata Cercheranno Di Ricacciaccia Cthulhu Fiamma I Suoi Sacerdoti Ci Sono Anche Loro E Se Sono Vissuti Fino A Quel Momento Sono Veramente Pericolosi Anche Perché Hanno Fat Entrare Questo C'è La Mitogida Overcraftiana Il Dio Esterno Amico Degli Umani Che Li Sta Aiutando Che No Adesso Mi Sembra Schiamo Quindi Tanto Tanto Gioco Concludo Questa Piccola Disamina Di Questo GDR Perché È un GDR Da Shot Tutti I Giochi Caso Per Caso Ok E Diventa Un'avventura Quando Tu Nell'arco Di Questi Casi Li Unisci E Fai Un Arco Temporale Questo Fare Una Campagna È Un Tosta È Un Po Tosta C' Debe Se Un Obiettivo Grande Una Come Dire Una Trama Complessa In Questo Calderone Incredibile Di Situazioni Assurde Quindi Questo Proprio Lo Dice Qui Si Fa Caso Per Caso Quindi Avventure Che Si Autoconcludono Una Sedata Perfetto Una Sede Di Questi Casi Possono Diventare Un' Avventura Sestante Comunque Sia Il Tasso Di Morte Qui È Impressionante Perché Non Solo C'è La Morte C'è Magari Ti Fregano Che Ti Levo Le Risorse Quindi Finiti I soldi Finito Il Gioco E Ti Posso Facere L'agenzia C'è Scara L'agenzia Perché Tu Giochi L'agenzia C'è Tanto Materiale Dove Tu Puoi Far Focus Visto Che C'è Anche Il Concetto Di Rianimazione I Personaggi Possono Rianimare I Proprio Gio Perché Qui Si Muore Estremamente Facilmente C'è Due Colpi E Vai Giù C'è Le Pistole Le Arme Aliene Qui C'è C'è L'incontro Di Una Cattura Abitatore Del Buio Come si Chiamavano Quelle Cose Orribili No Shogot E A Fuggire Poi Fa Niente Lo Sai Ma Qualcuno Li Utilizza C'è Proprio Fanno Gli Esempi Di Certi Attacchi Mirati Di Ste Cellule Sovversive Che Rilasciano Gli Shogot In Luoghi Chiari E Quelli Li Contrano Nessuno Nessuno Che Non Abbia Poteri Magici Per Poterlo Fare Quindi Ecco Qui Non C'è Il Tema Delle Eroi Non C'è Il Livello Di Potere Qui Proprio Persone Normali Che Fanno Vite Fuori Dall' Ordinario Cercando Di Sopravvivere O Meglio Di Elevarsi E Una Città Piena Di Opportunità Io Concludo Il Video Fatemi Sapere Se Lo Conoscevate Ma Penso Che Molti Anzi Di Di Quest'Ambria Di Cthulhu Un Gioco Su Cthulhu Completamente Differente E Forza A me Quello Che Piaci Di Più Veramente Che Più Col Sero Di Poi Io Ho Amato Il Classico Cthulhu Il Tema De La Gente Risolve Il Caso Bellissimo Però Quando Te Ripropongono Venti Volte Nel Centro Che Edizioni Perché Sono Tutte Le Edizioni Dalla Prima Alla Settima Poi Sono Tutti Quelli Attaccati Cthulhu Nell'antichità Cthulhu Certi Storici O Non Ventate Tutto Fai Sempre Le Stesse Cose Qui Si Era Dato Veramente Un Calcio Un Calcio A Tutto Quello Sconosceva E Han Detto Andiamo Oltre Qualcosa Di Nuovo E Le Avventure Fanno Morire Da Ridere Forse Ve Ne Parlerò Un Giorno Quando Lo Giocheremo Tra Qualche Mese Ancora Ve Raccontrò Se Condivisione Mi Piace Che Mi Aiuta Ci Vediamo Al Prossimo Video Ciao A Tutti